È entrato in casa di due anziani, presentandosi come un agente di polizia penitenziaria, sostenendo che il figlio era stato arrestato. Poi ha estratto un martello ed ha iniziato a colpire i due coniugi, lui di 74 anni e lei di 71. Il personale della Polizia di Stato del commissariato di Cassino è immediatamente intervenuto dopo una segnalazione di una grave aggressione. Sul posto, in effetti, gli agenti hanno immediatamente rilevato la presenza dei due conferiti al volto e in testa. L'aggressore si è dato alla fuga dopo l'intervento di alcuni vicini, richiamati dalle urla. Nella precipitosa fuga, l'aggressore ha perso la giacca che indossava della Polizia Penitenziaria. Dalle prime indagini e grazie anche alle dichiarazioni di una delle vittime, del vicino intervenuto e del figlio della vittima, hanno consentito nell'immediato di acquisire univoci elementi di colpevolezza nei confronti di un 31enne di Sant'Elia Fiume Rapido, sottoposto poi a fermo di polizia giudiziaria per tentato omicidio. Il giovane aveva un muovente passionale connesso alla compagna del figlio delle vittime e per questo si è riversato contro i genitori di quest'ultimo. L'arresto è stato comunicato al sostituto procuratore della Repubblica di Cassino, la dottoressa Chiara Dorefice, e l'arrestato sarà condotto presso la casa circondariale di Cassino. Inoltre, sempre da accurate indagini, la polizia ha scoperto che il figlio delle vittime era stato oggetto negli ultimi tempi di atti di intimidazione non ancora denunciati all'autorità fino all'epilogo di ieri. Gli anziani trasferiti nell'ambulanza al Policlinico Umberto I di Roma hanno riportato diverse fratture al cranio, al volto e agli arti superiori.